Daria Klishina è definitivamente la sola russa a competere nelle gare di atletica leggera a Rio 2016. Alla vigilia delle competizioni nella sua disciplina, il Tribunale arbitrale dello sport ha accolto il ricorso della saltatrice in lungo contro la Federazione Internazionale di Atletica. Sabato la IAF aveva deciso di escluderla sulla base di un'informazione proveniente dal rapporto McLaren sul doping di Stato in Russia. La stessa federazione, anche a luglio, le aveva consentito di partecipare, a differenza degli altri 67 russi dell'atletica leggera. Klishina era stata ammessa come atleta neutrale in quanto residente negli Stati Uniti e sottoposta per questo a sufficienti test anti-doping.